Atomic Backland 89SL, uno sci per chiama, allo stesso modo la salita e la discesa con un raggio di 17,4 metri e 90 mm al centro nella lunghezza di 176 cm. La costruzione è caratterizzata da un'anima in pioppo light woodcore e dura cap sidewall e tecnologia HRZN 3D e rinforzi in carbonio. Gli sci hanno un profilo all terreno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.